Io vedo positivamente, come ha detto il sindaco Naldella, l'introduzione dei sindaci metropolitani perché questa è veramente dare la voce ai territori, i sindaci sono coloro che si rapportano per prima, sono lo Stato sui territori, quindi sarebbe veramente una bella modifica. Ecco, da Ministro è preoccupata del percorso di riforme perché c'è appunto l'ostruzionismo, i tanti emendamenti? Io credo che passerà e che passerà bene la riforma, sono fiduciosa e da questo punto di vista ci credo fermamente. È una riforma necessaria e naturalmente il Parlamento ha la sua importanza, quindi non si può prescindere da quelle che sono le istanze di coloro che sono eletti, sia senatori sia deputati, ma io sono convinta che la riforma si farà.